Proseguono i risultati in campo vaccinale della regione Abruzzo. Oltre al buon vento preso dalle somministrazioni, anche il sequenziamento procede bene, tanto da collocarci in testa alle regioni italiane e permetterci di individuare subito eventuali brutte sorprese in un virus odioso e mutevole come quello che ci affligge da oltre un anno. La novità di oggi, anticipata al Tg8 dall'assessore Veri, è l'invio di una circolare ai centri vaccinali per invitarli a somministrare il monodose agli abruzzesi residenti all'estero che torneranno per le vacanze estive per non costringerli ad un dispendioso andi rivieni dal paese. Quanto all'accordo con i farmacisti, ci siamo. A giorni la firma che lo ratifica e dal 15 giugno via alle somministrazioni. L'accordo sarà firmato a giorni e dal 15, così come ha detto il presidente di Federfarma, inizieranno le somministrazioni. Queste farmacie li vediamo impegnati nella campagna vaccinale, sia in questa prima fase ma soprattutto nella seconda fase, quando ci avvieremo sia ai richiami e anche alle famose, quando ci saranno, terze dosi. Perché tra l'altro, insomma, nei piani sia del generale Figliolo ma un po' di tutti, c'è poi la chiusura degli abba vaccinali, si pensa alla fine dell'estate o comunque verso agosto. Quella funzione dovrà essere assolta dai medici di famiglia e dai farmacisti, quindi sarà ancora più utile, come diceva lei, più in là. La perplessità dei farmacisti è, ma le dosi per noi ci sono, arrivano? Le dosi, come ha detto il generale Figliolo, arriveranno in un numero adeguato per la somministrazione a tutti i nostri corregionali, per cui il mese di giugno sarà il mese della spallata, in base ai punti vaccinali che noi dobbiamo ricoprire, così daremo le dosi anche ai farmacisti. E poi c'è la zona bianca che, se tutto va bene, come sta andando, ci aspetta. La regione Abruzzo, ormai lo sappiamo, è da diverse settimane agli indicatori da zona bianca, quindi saremo tra le quattro regioni che proprio oggi pomeriggio l'Istituto Superiore della Sanità andrà a definire. Lo diciamo con orgoglio, ma soprattutto con l'attenzione che dobbiamo sempre portare avanti. Vuol dire che la campagna vaccinale sta andando bene, siamo sopra la media nazionale per la percentuale delle dosi somministrate. Senz'altro c'è un'aderenza notevole nella nostra regione, ma ugualmente c'è una percentuale che non vuole vaccinarsi, e questo prevalentemente nella fascia di età al di sopra dei 60 anni. Speriamo, ce l'auguriamo, che anche in questa fascia ci sia l'adesione maggiore, ma soprattutto sono convinta che attraverso il modello, attraverso l'emulazione, attraverso il coinvolgimento di tutti i nostri corregionali, si possa arrivare a quell'immunità di gregge che noi auspichiamo, così come l'abbiamo già stabilito da mesi precedenti, che auguriamo che possa avvenire entro il mese di settembre. E una volta che queste persone indecise avranno la possibilità di verificare che il punto di forza è proprio nella vaccinazione, sono convinta che si adegueranno.